Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Mancano poco meno di due mesi al debutto di Amici 23 di Maria De Filippi e le indiscrezioni a proposito degli insegnanti fioccano di continuo Gli intoccabili come sempre restano Alessandra Celentano e Rudy Zerbi Confermata Lorella Cuccarini, gli altri? Raimondo Todaro e Emanuello in bilico Nuovi nomi super.Se l'aspietata e competente Alessandra Celentano può stare serena sapendo che il prossimo settembre tornerà ad Amici 23 di Maria De Filippi, con una nuova squadra ed anche Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini Arisa, Raimondo Todaro ed Emanuello invece incerti sul loro destino Al loro posto quattro nomi in lizza.Amici 23, le nuove prof che piacciono al pubblico e a Maria Stando a quanto riportato in queste ultime ore dall'esperto di cronica rosa e televisione Amedeo Venza, nel caso Arisa, Raimondo Todaro e Emanuello dovessero non essere confermati, come decidere loro di non voler continuare l'avventura nella scuola di Maria De Filippi, le loro possibili sostitute potrebbero far impazzire il pubblico, quattro nomi, quattro donne, e quasi tutte provenienti da lì Chi entrerà a Amici 23? Grande fermento ad Amici. Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elena Dammario sarebbero in lizza, si legge nell'indiscrezione pubblicata qualche ora fa su Instagram Però non finisce qui in quanto potrebbe potrebbe spuntare anche una vecchia leva del talent Mariano Ma potrebbe ritornare di nuovo Veronica Peparini. È tutto ancora da decidere, svela inoltre la voce del web I fan in fermento, vabbè sarebbe un sogno avere Emma o Alessandra, Elena se lo merita, da una vita balla lì, ora sì che si ragiona, top Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video